ok benvenuti bentornati sub in sapiens siamo di nuovo qua io gianandrea giacoma e gianluca bocchi l'idea di questo video è quello di iniziare una serie di dialoghi di video tra me e gianluca per parlare veramente di tantissimi temi qual è il senso il senso è che la differenza ma anche la complementarietà delle nostre diverse sensibilità e competenze riteniamo possa produrre delle dell'interrogazione delle riflessioni interessanti anche per chi ci segue io sono uno psicologo non psicoterapeuta un insegnante mindfulness che ha applicato per anni la psicologia in tanti campi anche quello tecnologico del design dell'organizzazione dei gruppi umani gianluca è uno storico della scienza un epistemologo professore universitario uno dei principali padri del pensiero complesso in italia la cosa vogliamo partire da una grande questione cioè alcune caratteristiche principali della cultura in cui siamo immersi cercando di renderle esplicite di non subirle e come diversi anni fa ci conosciamo a tanti anni e gianluca il gianluca usò una volta questa espressione ma noi ci troviamo in una cultura non solo in qualche modo possiamo dire in parte correttamente post moderna ma principalmente bloccata in un'eterna tarda modernità ecco io partirei da questo punto ovviamente poi gianluca ci spiegherà che cosa intende perché lo ritengo molto prezioso e molto interessante per riflettere sui nostri valori e nostri cavi di interpretazione di noi stessi della realtà prego gianluca allora per partire da questo punto no io devo sottolineare una cosa che ho usato questa espressione la posso usare ancora oggi in maniera polemica sì per segnalare un contrasto molto pesante del nostro mondo che cosa voglio dire noi oggi siamo in una fase di fioritura enorme delle singole conoscenze dei vari ambiti del sapere umano no sappiamo molte più cose molto più interessanti sul mondo sulla conoscenza su noi stessi e sul modo in cui noi stessi abitiamo il pianeta e l'universo no e sono state cose rivoluzionarie nell'ultimo secolo abbiamo cambiato tantissime prospettive e devo dire che la scienza e la tecnologia oggi in tanti ambiti nonostante certi vincoli hanno un coraggio senza pari per aprire nuovi orizzonti no anche chi non conosce queste cose però sa come la fisica dell'ultimo secolo no ha buttato a mare certi presupposti dopo aver capito il loro senso e ha esplorato no ambiti nuovissimi che poi hanno una ricaduta anche su tante altre forme di conoscenza quindi è un momento in cui la scienza è esplorativa è calda e come vedremo dialoga anche con altri aspetti umani ma è questo il grosso problema le modalità organizzative dell'accademia delle istituzioni statali delle organizzazioni aziendali sono ancora tarate su una conoscenza che non esiste più nel senso che è stata assolutamente superata da i più interessanti sviluppi degli ultimi cent'anni no cioè quello che voglio dire che c'è nelle pratiche umane un ritardo ma non lo chiamerei un ritardo ma proprio una zavorra che è data da certi presupposti sul senso sul mondo sulla conoscenza che hanno avuto una loro funzione nel corso dell'età moderna ma che oggi alla luce proprio della conoscenza stessa sono datati no e questo è un contrasto terribile no perché voglio dire eh anche i ricercatori più creativi no poi si trovano ad avere a che fare con delle pratiche quotidiane con dei vincoli quotidiani invece eh che ha un'altra hanno un'altra visione della conoscenza hanno un'altra visione del mondo no allora quello che dicevo in questa eh affermazione che ripeto è polemica ma che ha un senso è che certe scelte che hanno avuto le loro ragioni d'essere o all'inizio della modernità quindi nel cinquecento nel seicento o in un periodo storico molto particolare molto interessante che è l'inizio dell'ottocento continuano a impiombare l'azione pratica umana eh anche in contraddizione con quello che la conoscenza ci dice della stessa natura umana e allora io ti chiederei in modo sintetico quali sono le caratteristiche che sono rimaste congelate e seconda domanda già te l'anticipo perché ci siamo ancora congelati con quelle con quei principi sì onestamente ci sarà tutto il percorso che spiegherà sì sì ben cominciare ad accennarli no eh per esempio ma anticipo una cosa no l'ossessione del controllo della previsione e della semplificazione a tutti i costi che eh voglio dire molte volte vengono richieste no in tantissimi contesti chiamiamoli così organizzativi istituzionali quando le scienze e le conoscenze ci fanno capire che uno sono impossibili in un certo senso e secondo è bene che siano impossibili queste ossessioni perché per interagire col mondo abbiamo bisogno di altre cose no allora perché questi valori sono diventati così importanti valori o disvalori no parole d'ordine nel controllo previsione semplificazione e qui dobbiamo tornare all'origine della modernità no nel senso che eh in qualche modo una cosa che si è capita negli ultimi eh decenni è che le origini della modernità eh non sono un risultato eh di un pensiero trionfante no che poi butta a mare eh in maniera innovativa eh il pensiero precedente ma sono una risposta estremamente creativa naturalmente a uno stato di crisi che direi di più a un vero e proprio shock a un vero e proprio trauma dell'uomo all'inizio dell'età moderna di parlando di uomo intendo l'umanità occidentale soprattutto per aver scoperto che nella terra nei cieli erano come si dava per scontato diciamo da millenni no eh è inutile qui eh insistere su questo punto ma ricordiamo certe cose che per capire cos'è l'età moderna dobbiamo pensare a due eh sviluppi rapidissimi che sono strettamente intrecciati cioè da un lato quella che è stata chiamata la scoperta della terra no? Cioè le esplorazioni geografiche viaggio di Colombo Magellano hanno tantissime conseguenze e aprono tutta eh la globalizzazione dell'età moderna ma dal punto di vista cognitivo che cosa si scopre? Intanto che tante narrazioni degli antichi erano proprio sbagliate no? E quindi che c'è un nuovo ruolo dell'esperienza rispetto alla teoria che però bisogna mettere a fuoco no? Il secondo luogo e beh che la terra era qualcosa di molto diverso da come appunto gli antichi se lo rappresentavano e adesso finalmente si capisce che eh quali sono i continenti quali sono le distanze tra i continenti che la gran parte eh della della superficie terrestre è fatta di oceani e che gli oceani sono delle cavità in cui l'acqua eh si immerge e divide la terra ferma no? Se oggi queste sono cose scontate ma sono stati eh degli shock cognitivi pesanti perché i modelli medievali erano molto diversi e questo avviene in maniera rapidissima si scoprono altre genti altre culture un altro modo altre società eccetera eccetera c'è una difficoltà per rielaborare tutto questo. Nello stesso tempo si scoprono che anche i cieli non erano eh i cieli eh che erano stati considerati eh diciamo in occidente almeno da eh da millenni no? Che c'erano buone plausibilità che i modelli tradizionali tolemaici aristotelici con la terra il centro non funzionassero che invece la terra nel giro di pochissimo tempo viene ripensata come eh diciamo un pianeta che gira attorno al sole e poi in maniera molto rapida si inizia a ipotizzare una cosa modernissima che forse l'universo è estesissimo addirittura infinito e che come eh c'è il sistema solare col sole i pianeti e la terra ci possono essere anche altri sistemi eh nel giro del dell'universo ecco questa idea che abbiamo scoperto solo oggi che è vera si impone all'ottica eh degli astronomi e dei filosofi del cinquecento in maniera rapidissima tanto che i filosofi del cinquecento parlavano in maniera modernissima di extraterrestre tutto questo avviene in un secolo un secolo esplosivo e le due cose sono legate insieme perché per esempio sappiamo che Copernico ha preso coraggio per eh ipotizzare per pensare ai fondamenti del sistema copernicano per cui la terra non è più al centro dell'universo ma diventa poi un pianeta che gira attorno al sole perché era molto attento alle avventure di Colombo e in qualche modo si è sentito anche Galileo ha usato questa espressione un nuovo Colombo no quindi è un fenomeno di clamorosa discontinuità nel corso della storia non solo pratica eh le economie cambiano eccetera eccetera ma del pensiero umano eh forse una delle discontinuità maggiori è inutile dire qual è la maggiore senz'altro è che ha delle caratteristiche traumatiche e mentre noi oggi lo diamo il coraggio di chi ha cercato di ricomporre un'immagine della terra e dell'universo in cui noi abitiamo tutt'oggi però abbiamo un po' dimenticato l'aspetto traumatico di questa e quindi c'è stato un tentativo di ricostruire rapidamente un nuovo ordine e nuovi principi di ordine che potessero servire agli umani di orientarsi meglio in questo mondo che appariva molto più diverso molto più vario molto più intrigante in un certo senso molto più sfidante molto più pericoloso di quello che avveniva nel recente passato allora è chiaro che per ricomporre la terra e i cieli bisogna partire da certi presupposti no e allora un presupposto che fu adottato e che in larga misura è presente in tutto il corso della della tendenza principale della modernità è di cercare di ridurre la varietà enorme dei fenomeni che ci vengono posti in ogni contesto che abita l'umano no quindi sulla terra ma anche nell'universo ridurre diciamo questa eh moltiplicità indominabile a qualcosa di dominabile no la formula più usata e eh di fatto praticata è di trovare dal attorno alla varietà visibile dei fenomeni un invisibile semplice che qualcosa di sottostante che fosse più dominabile accettabile più operabile che fosse più manipolabile quindi l'idea che eh l'indominabilità dell'universo o anche l'indominabilità se vogliamo della società no eccetera 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 fosse riconducibile a dei principi diciamo semplici che ci potessero aiutare per la nostra azione per il nostro vivere nel mondo. Ti interrompo un attimo tanto su questi temi ci ritorneremo a vari livelli quindi se dovessimo tradurlo da un punto di vista psicologico come se fosse il vissuto di un essere umano no l'evoluzione della cultura umana e come se a un certo punto ci fosse stato uno shock con la componente anche traumatica che tu sottolineavi che non era indifferente è come se si fossero innescate le difese forse eccessive una ridescrizione cognitiva non soltanto pragmatica data da vedere le cose in modo completamente diverso e stravolgente ma anche che avesse una funzione come dire ansiolitica una funzione di contenimento dell'angoscia di un mondo che da un lato ci vedeva più potenti nel riconoscerlo nella sua complessità ma nel coltempo ci vedeva completamente in balia del dubbio di riuscire a non essere sovverchiati da questa complessità quindi in qualche modo quello che ci ha protetto ed era necessario anche a livello puramente pragmatico non emotivo in qualche modo si è sclerotizzato no cioè quale inevitabile stupore ma anche angoscia di questa rivoluzione ha fatto sì che poi si perpetasse eccessivamente un bisogno di questo invisibile come tu l'hai chiamato mi è piaciuto molto questo invisibile ma semplice può essere in forma matematica o in altre maniere ho capito bene è chiaro che c'è un aspetto per cui in genere questo invisibile semplice viene considerato raggiungibile attraverso un particolare approccio tra il metodo sperimentale e la matematizzazione dei risultati no quindi il privilegio del quantitativo e del matematizzabile del formalizzabile che è un altro tema per tutta l'età moderna ecco hai proprio ragione parlando no del dell'aspetto ansiolitico perché dobbiamo aggiungere un'altra cosa che l'esperienza degli umani adesso parliamo degli europei poi ci sarebbe da aprire un discorso del mondo no ma noi adesso diciamo ah vabbè gli europei nel 500 nel 600 avevano un po' l'orgoglio di come dire di essere diventati importanti sulla scena mondiale questo almeno per il 500 nel 600 è molto marginale no perché il 600 cioè il secolo decisivo no in cui si sviluppano tanti approcci scientifici dal punto di vista dell'esperienza degli europei del cittadino comune è stato un secolo pessimo intanto per il clima oggi parliamo della piccola età glaciale nel senso che c'è stata una crisi climatica perché c'è stato un certo raffreddamento dell'atmosfera e questo ha portato a carestia pestilenze no e quindi la gente moriva poi è stato il secolo delle guerre di religione eh tra l'altro interna il cristianesimo per cui diciamo l'unità culturale dell'Europa allora si era infranta e ehm le guerre di religione ovviamente poi sono dilagate no eh in eh in guerre in cui gli eserciti no poi hanno come sempre eh una sorta di guerra civile europea no hanno devastato le campagne hanno hanno fatto anche delle stragi che rispetto ad oggi ci sembrano marginale ma che hanno dato una totale insicurezza da questo punto di vista quindi la insicurezza delle origini della modernità non era solo ehm teorica era anche pratica no e c'è stato eh un libro molto importante che adesso è stato ritradotto eh ripresentato in italiano da Mimesis e Cosmopolis di questo filosofo della scienza e storico della scienza Stephen Toulmin che dice che una grande problematica del seicento era la ricerca a tutti i costi della certezza e lui prende come emblematica la figura di Cartesio il quale eh subiva le eh guerre civili in Francia e viene molto colpito no dalla eh risorgere dei conflitti tra cattolici e protestanti in Francia no tra l'altro è un esempio no di come l'attività dei pensatori e degli scienziati deve essere pensata rispetto alla loro inserimento nei contesti politici e sociali del tempo allora è chiaro che un aspetto che ovviamente esisteva anche dal punto di vista teorico però negli studiosi del seicento in un modo o nell'altro viene anche incentivato dalla loro insicurezza pratica no questo quindi questo circolo tra le difficoltà teoriche e l'insicurezza pratica mette il focus sulla ricerca della certezza no dopo lasciamo stare come questo influenza moltissimo particolare sistema di Cartesio no il quale cerca di dare un fondamento eh auto evidente diciamo a tutta la sua costruzione filosofica e scientifica ma in qualche modo è un problema condiviso quindi non solo ricercare questo invisibile semplice ma poi quello che chiamiamo il problema dei fondamenti cioè trovare qualcosa che ci garantisce la validità eh diciamo assoluta comunque eh chiamiamola accontestuale delle nostre semplificazioni quindi un vocabolario che punta non solo sulla certezza ma anche sul trasparente sul chiaro appunto le idee chiare e distinte sul non ambiguo se vogliamo così sul cristallino e chi più ne ha chi più ne metta no che sono tutte metafore sulla pulizia perché c'è anche questo sono metafore che poi ci hanno seguito nel corso della modernità. Allora abbiamo messo un sacco di carne al fuoco ovviamente poi tutti questi concetti li svilupperemo non è idea quante associazioni anche psicopatologiche terapeutiche mi sono venute in mente no facendo cercando di fare sempre in modo cauto ma creativo analogia. Quindi per sintetizzare poi non vogliamo raccontare tutto in questo primo giro anche perché il video diventerebbe lunghissimo lo svilupperemo poi nei prossimi video ehm faccio cerco di fare una sintesi dal mio punto di vista e tu mi dici se torna cioè sottovalutiamo che nel tra il cinquecento e il seicento c'è stata una rivoluzione da un lato fantastica ma dall'altra parte profondamente traumatica dal punto di vista cognitivo nel senso della capacità di reggere l'impatto del cambiamento delle informazioni delle chiavi di lettura nuove che interpretavamo e dall'altra parte anche emotivo cioè della capacità di reggere lo stupore ma l'angoscia allo stesso tempo di questa rivoluzione dal punto di vista teorico dal punto di vista poi tutto questo si collocava comunque in un contesto storico reale non era nell'iperuragno che si accompagnava con crisi climatica e quindi domanda di senso in che gioco siamo finiti no pestilenze e gli umani che diciamo si impegnavano a complicare ulteriormente il gioco rimaniamo nell'ambito europeo per ora con guerre interne tra cristiani stessi questo ha creato un trauma che ovviamente per la brevità della vita di un singolo ma se lo vediamo nei secoli no di un'intera civiltà i secoli potrebbero essere pochi decenni se facessimo un parallelo no la nostra civiltà la nostra società nostra cultura occidentale europea gode delle scoperte della modernità ma è come se avesse rimosso anche a dimensione traumatica della modernità è corretto ho capito bene è correttissimo e anzi questo dimostra la validità del nostro dialogo perché è giusto che poni l'accento su certi aspetti no allora per concludere questo primo flash diciamo bisogna sottolineare proprio che al di là delle cause no ma che i momenti molto creativi come quello che è stato all'inizio della modernità hanno un lato abbastanza pesante cioè se funzionano indubbiamente le cose sono funzionate benissime vincolano tantissimo gli sviluppi futuri no è in questo senso che dicono che siamo ancora eredi di una tarda modernità no perché tra le mille soluzioni possibili no oggi appunto poi anche lo stesso tulmin e tantissimi altri parlano che forse la scienza rinascimentale poteva svilupparsi in maniera diversa e si poteva parlare già allora di una scienza delle qualità che avviene solo nel ventesimo secolo invece ma certe scelte che sono state fatte perché al momento rispondevano appunto a esigenze molto immediate e anche molto emotive poi diventano dei vincoli forti che impongono ovviamente per essere superati altri traumi e altre rivoluzioni ecco io sostengo che poi il novecento per tanti aspetti è stato un secolo altrettanto traumatico di quello delle origini della modernità e quindi noi adesso siamo di fronte a una cosa abbastanza simile di ricomporre un mondo però staccandosi dalle scelte che sono state fatte allora ecco credo che questo sia un materiale molto utile per i dialoghi successivi ai quali vi invitiamo di partecipare grazie e buona giornata grazie grazie a tutti